Allora abbiamo appena ascoltato il brillante intervento del Vice Ministro, vorrei ritornare su alcuni punti che lei ha evidenziato. Intanto, stato di salute di questo paziente, l'olio d'oliva italiano. Diciamo che dopo un anno terribile in cui abbiamo avuto veramente grandissime preoccupazioni, abbiamo quest'anno dei segnali molto positivi dalla campagna 2015-2016 con una crescita del 70% della produzione, soprattutto una crescita omogenea in tutte le regioni, quindi siamo sotto questo profilo soddisfatti, naturalmente dobbiamo lavorare perché i numeri devono crescere ancora ulteriormente perché sappiamo quanta è la richiesta di prodotto, di prodotto buono, di qualità e di prodotto italiano, quindi dobbiamo ancora più lavorare e dobbiamo fare in modo che venga anche compensato, retribuito in maniera corretta. A proposito di lavoro ancora da fare, Vice Ministro, mi ha colpito un passaggio che lei ha evidenziato verso la fine. Come far conciliare le istanze particolari con quella che è la richiesta nazionale di istanza? Ecco, come ci riusciamo, come ci possiamo riuscire facendo un disegno futuro? Noi dobbiamo innanzitutto garantire la tracciabilità del prodotto perché se non c'è questo non c'è valore aggiunto, non c'è possibilità anche di andare a declinare quella che è la caratteristica del nostro olio che è l'essere di alta qualità e di differenziarsi anche da territorio a territorio, quindi andando anche a fornire al consumatore degli elementi interessanti, unici, sappiamo quanto l'unicità nel mondo globale è fondamentale e dobbiamo fare sì che vi sia un sistematico sistema di controllo, di monitoraggio affinché ci possa essere una crescita omogenea, ci possa essere una crescita da garanzie a tutti di vedere riconosciuto quello che è il proprio lavoro, senza truffe, senza prevaricazioni, senza anche trovarsi in condizione di beffa di prodotti di scarsa qualità che vengono presentati come italiani ma italiani non sono. Ultima cosa Vice Ministro, come invece attirare, essere attraenti nei confronti anche degli stranieri con quello che abbiamo di meraviglioso, il nostro paesaggio olivicolo, l'identità territoriale? Noi dobbiamo proteggerlo in tutti i modi, dobbiamo farlo sia da un lato remunerando correttamente il prodotto e il prodotto di qualità e quindi facendo sì che i coltivatori abbiano interesse a curare il territorio ma dall'altro lato anche riconoscendo la funzione di tutela del territorio dei piccoli, piccolissimi che molte volte non hanno reddito sufficiente dal prodotto ma devono averlo dal lavoro straordinario che fanno. Molto bene, grazie, gentilissimo.